Questo è Just Talk, questo è Just Talk Il mio saletto è cuffia, scherzo play, che t'annoyeresti, non ci scommetterei inizia il podcast Tu ascolta il relax, controllo qualità come il prossimo dei nasi Questo è Just Talk, questo è Just Talk 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 Good morning internet, welcome back boys and girls Io sono Mr. Nice Guy Matteo Volpe Questo è Just Talk, il podcast preferito dai ciambellieri Lo sapevi questa, dai ciambellieri americani I ciambellieri, quelli che fanno le donuts insomma Bentrovati, bentrovati amici con me Avete già sentito la sua risata isterica Il massimo esperto di mentalismo italiano No, non è vero mai, però un grande, un grande Un uomo che tutti ormai conoscono per il meme che ho creato Ho creato un mostro, scusatemi Succede il grande Paolo Tinnirello Oh, che meraviglia Sento quasi l'applauso in lontananza Bravo Paolo, ma te lo meriti Ciao a tutti Ciao a tutti Diciamo che sono il massimo esperto di mentalismo in questa stanza Sì, in questa stanza sì In questa stanza sicuramente Tenderebbe a farlo Allora, bentrovati ragazzi Grazie per essere qui con me e con il nostro amico Paolo Affronteremo un argomento molto particolare Di nicchia È veramente una cosa interessante E ho avuto modo di vivere insieme a questo amico A questo Paolo Che è un artista siciliano Tu sei nato, dove sei nato Paolo? Tu sei nato a Palermo? Credo di essere nato a Palermo C'è chi ogni tanto mi ha detto che sembra un alieno Ma tu sei un alieno Paolo Tu sei venuto dal futuro, dallo spazio, dai tempi strani No, però è davvero un professore una volta alle medie E disse a mia madre Sofì è un alieno Perché è così diverso dagli altri È così troppo educato È troppo alieno? Eh beh Ok È proprio un bacarozzo quelli del film Sì, no, quelli di Independence Day Di Man in Black Di Man in Black Allora, cazzate a parte Intanto prendiamo Infiliamoci in questo discorso Che è parecchio interessante A mio avviso E mi piace condividere con Chi non ha mai sentito parlare Di mentalismo E non è Non sono pochi Quelli che non hanno mai sentito parlare di questa cosa Quindi Paolo Alla fine Sto mentalismo Cos'è? Oh La domanda tipo È la domanda È chiaro che Allora Il mentalismo È È la disciplina È della madonna La disciplina, vai La branca Se ti piace di più Attraverso la quale è possibile Leggere la mente altrui Come risulta Iniziamo così Professor Pivetta Veramente Lei è fastidiosissimo Facciente è fastidiosissimo Allora, iniziamoci da questo Allora, che significa? Che il mentalista Può leggere la mente altrui Ma non perché abbia dei poteri Assolutamente no Dico, siamo ormai nel 2019 Non C'è chi ancora ci prova Ma non io Il mentalista Ripeto È quello che Attraverso lo studio Di determinate materie Discipline Branche Della psicologia Riesce A interpretare In qualche modo A leggere Il pensiero Degli altri Quindi Prima ancora di dire altro Per favore Non chiedetemi Perché è una cosa Che mi capita sempre E allora Puoi leggere I numeri Cioè puoi prevedere I numeri Del super enalotto No Perché si tratta di mente Umana Non di una macchina Quindi Però puoi fare il cubo Di Rubik Scusate ragazzi Il Joker è entrato nella stanza Adesso Scusate Scusate Perché c'è la cosa Joker Per favore Se per favore puoi andare via Quindi Succede Io ho visto dei mentalisti Fare queste cose Ma lo affronteremo dopo Vabbè dopo Dopo ne parliamo Di chi ipnotizza le galline Poi ne parleremo Parleremo anche di quello Ma ci sta Ci sta Ci sta Quindi abbiamo detto Che questa cosa È più che altro Un modo di vedere Cioè sembra che tu Riesca a leggere la mente Ma non è che fai esattamente questo No Allora Partiamoci Dall'origine Ok Vabbè Nel lontano 1800 È qualcosa Nasce Diciamo La figura Dell'illusionista Ok In quanto sensitivo Sai cos'è un sensitivo Matteo Tipo WP Goldberg In Ghost Sì Però mentre in Ghost Nel film È un medium Forse è una medium Sì Vabbè Ma il sensitivo Diciamo che Rientra in questa categoria Mentre nel film È dato Per certo Che Lì è vero Perché è un film Certo Nella realtà A me non è mai capitato Di avere a che fare Con un reale sensitivo Però Diciamo che Il mentalista All'inizio Nasce in quanto Sensitivo Ok Cioè colui Che si mette in contatto Con i morti Che ha poteri Di telecinesi Poteri Di previsione Del futuro E quindi Erano delle figure Direi Mistiche Esoteriche Ok E c'è chi Ha mantenuto Questo tipo Di personaggio Fino anche Agli anni 80 Ah Adesso Poi ti dirò Chi Personaggi Di tutto il rispetto Che però Oggi Ammettono Di Aver usato Tecniche Di diverso tipo Detto questo Negli anni Appunto Si è scoperto Piano piano Che persino Le sedute Spiritiche Le famosissime Sute Spiritiche Non sono Altro Che Complesse Tecniche Di Manipolazione Per far credere Che effettivamente Ci sia la presenza Di uno Spirito Attenzione Io non Sono qui A dire Non esistono Queste cose Ho Forti dubbi Andiamoci così Ho forti dubbi Ho fortissimi Forterrimi Forterrimi Dubbi Però Dico Finchè non arriva qualcuno A dimostrarmelo Io Sono convinto Che non Esistano Questo genere Di cose Però Per carità Chi ascolta Magari Ha avuto Delle esperienze E ho Totale rispetto Per questo Ci mancherebbe Quindi Il mentalismo Nasce così Ad oggi Invece Sappiamo Che il mentalista Usa La psicologia O meglio La psicologia Applicata Il comportamentismo Quello Che è lo studio Del linguaggio Del corpo Ok Del linguaggio Non verbale Della lettura Delle espressioni Facciali La semiotica La semiotica L'antropologia La sociologia Cioè persino Queste discipline Queste materie Più universitarie Diremmo Più classiche In realtà Diventano strumenti Utili Per il mentalista Che poi in realtà Matteo Diciamolo 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 Sai cos'è che è utile al mentalista? No Tutto Tutto Nel senso che il mentalista Per fare davvero bene Questo lavoro Perché Attenzione È un lavoro Sì Deve essere colto E allora perché lo fai tu Paolo? E infatti Se lo chiedo in tanti Ce lo stiamo chiedendo tutti Ok No E deve essere colto Nel senso che Deve sapere Non un po' di tutto Ma A parte queste cose che ho detto È utile anche sapere di storia Di Di musica E dopo ti spiegherò perché Ah Quando Ti lascio un po' così Così col cliffhanger Esatto Maledetto Ok Quindi Diciamo Siamo in una In una sfera Che somiglia All'illusionismo Ma non è illusionismo Sì Allora È illusionismo Ah In realtà È illusionismo Perché La grande Famiglia Dell'illusionismo Praticamente Si divide in due Ok Da un lato ci sono i prestigiatori I cosiddetti maghi Ok Che non sono Harry Potter Harry Potter non esiste Un po' come gli spiriti di prima E No Allora A parte gli scherzi Da un lato ci sono i prestigiatori Che Illudono Lo spettatore Con la manipolazione di oggetti O di Persone Fanno sparire Comparire Oggetti Persone Le tagliano in due Insomma Volano Queste cose di qui Bellissimi Bellissimi Cioè Non sono qui a dire Che quello fa schifo Ci mancherebbe Però è un'altra cosa Il mentalista Illude Di avere Questi poteri Sovrannaturali Di cui Sopra Di lettura della mente Esatto Io ti illudo Di leggere la mente Attraverso i miei poteri Psichici Quando invece Sto leggendo Il tuo comportamento Da lì Arrivo a capire Cosa stai pensando Ok Ecco E' così che funziona Però Rientra nell'illusionismo E quindi anche nel Potremmo dire Lasciami passare il termine Nello show business Perché comunque Si fanno spettacoli Chiaramente Certo Certo sì Infatti quindi Diciamo Si mira poi Ad emozionare O comunque A lasciare un bel ricordo In chi In chi guarda questa cosa E rimane stupito Diciamo Sì E' lo stupore La cosa importante Lo stupore importante Come veicolo Per un'emozione Più forte Cioè ecco Una cosa che Io tengo A sottolineare Non perché Sia io Ma perché Mi hanno insegnato Uno dei mentalisti italiani Che è stato il mio Insegnante Un certo Aroldo Lattarulo Non è molto conosciuto Perché lui si è dedicato Più All'insegnamento Che A fare gli spettacoli Tour Italiani E cose varie Cosa mi hanno insegnato? Ecco quindi si studia C'è modo di farlo Cioè Una cosa Sì Canonica Diciamo che Non è semplicissimo Ok Intanto ti rispondo Alla domanda di prima Lo stupore Perché diventa importante? Perché veicola Scusate Un'emozione Cioè Prima c'è lo stupore Di qualcosa Che sembra impossibile Subito dopo Se si è fatto Un buon lavoro Subentra Un'emozione Che può essere Positiva O negativa Mi spiego meglio Può essere Gioia Può essere Sorpresa Quindi dallo stupore Passare alla sorpresa Può essere Meraviglia Può essere Malinconia Può essere anche Tristezza Può essere Inquietudine Cioè in uno spettacolo Certo Diversi momenti Si può racchiudere Tutto C'è il momento Quello più Frizzante Dove si ride Tutti insieme C'è il momento In cui Qualcuno Invece Si lascia andare Anche una lacrimuccia Per dire Quindi diciamo Che questa La cosa che È più importante Nel In uno spettacolo Di mentalismo Il momento In cui La persona Si emoziona Quindi dicevi Che hai un mentore Quindi c'è qualcuno Che ti ha insegnato A farlo Beh si Non è solo uno Lui diciamo È il principale Infatti Io purtroppo Non lo vedo Non lo vedo Praticamente mai Io ho seguito Dei corsi Anche online Poi ho studiato Su tanti libri Anche appunto Non solo Di Cioè non Non esistono libri Di mentalismo Cioè non compro il tomo Il mentalista perfetto Esatto Il mentalismo per idioti Non c'è Ci sono Dei libri Che In qualche modo Ti danno degli spunti Per Gli esperimenti È come se io Un domani Facessi una collezione Dei miei esperimenti Ok Diciamo Quello c'è Quello c'è pure Ma È l'ultimo step Prima Devi studiare Tanto altro Quindi Lui ripeto È uno È il principale Ma poi Ho studiato Anche dai libri Per esempio Di Paul Ekman Sai chi è Paul Ekman? Il primo che parlava Della lettura del corpo? No Ni Paul Ekman Si parte da lì Però poi Paul Ekman Si specializza Nella lettura Delle microespressioni Io ho ricordi Delle microespressioni Per quanto riguarda La serie tv Lie to me Io vado di ignoranza Entro a gamba tesa E ti dico Io mi ricordo questo Per lie to me Ecco Quindi potremmo anche parlare di questo Quando abbiamo un attimino Magari ci arriviamo Quanto le serie tv Siano poi realistiche In base a certe cose Tra cui la lettura del corpo Si beh E' chiaro che La serie tv Sarà sempre Una serie tv Dico Quello è assodato Sempre romanzata Sempre romanzata Sempre Deve rientrare In qualche modo Nei tempi Di una singola puntata Andiamoci così Per dirla in soldoni Però quello che faceva Paul Ekman In Lie to me Era leggere Le microespressioni Si E quello che fa Paul Ekman In Lie to me Che è una serie Secondo me Di merito Però C'è un però Parere personalissimo Lie to me È bella Come serie tv Però È Eccessivamente Romanzata Nel senso che Paul Ekman Stesso Che comunque Fece da consulente Per questa serie Perché l'idea Venne proprio Dallo studio Che ha fatto lui Paul Ekman Realmente Nella vita Ha collaborato Non so se lo fa tuttora Perché ormai Con i criminologi Ha collaborato Con i criminologi Con l'FBI Per i casi Un po' particolari Dove Attraverso Lo studio Delle microespressioni Si riusciva a capire Quando L'interrogato Diceva La verità o no Nella serie Fanno la stessa cosa Ma Con tempi Decisamente Più brevi Certo Poi danno per buono Tutto Karl Lightman È il personaggio Che arriva E In automatico Capisce tutto Non funziona così Cioè Uno può essere Tanto allenato Anche perché Le microespressioni Che cosa sono Sono dei movimenti Quasi impercettibili Del volto umano Ok Ad occhio nudo È quasi impossibile Leggerli Vederli C'è chi ci riesce Anche io A volte ci riesco Altre volte no Perché non sono un computer Infatti Nella serie Non so se te la ricordi C'è Le riprese Un computer gigantesco Schermi E cose varie Perché giustamente Deve essere uno studio Molto scientifico Per quanto poi Ci sia la polemica Se sia una scienza esatta Oppure no Vabbè Diciamo che poi Cioè Entriamo in dati Magari troppo tecnici Non voglio annoiare I nostri Ascoltatori Però Ripeto Da un lato Sì È bella la serie Dall'altro È troppo romanzata Quindi È un po' forzata Ecco Cioè Quello che nella vita reale Si fa in anni Loro lo fanno In un paio di giorni Diciamo che Non funziona proprio così Ok Ok Quindi Ci sono Tra l'altro c'è anche The Mentalist Una delle serie Che forse tu ami Quella Quella Voi non lo vedete Ha fatto gli occhi da cerbiato Ecco The Mentalist Perché molti di loro Magari Che hanno sentito già parlare Di mentalismo L'hanno vista Per esempio Io ancora non l'ho vista Perché Perché sei una brutta persona Matteo Perché sei una persona male Una persona male Direbbe maccio Che ne pensi di The Mentalist E lì C'è il mentalismo davvero Allora Mi ha fatto pensare Voglio fare questo Ah Hai visto Allora abbiamo già capito Che cos'è che ha fatto scattare Nel tuo cervelletto Voglio diventare un mentalista È come se quella fosse stata La spinta finale Perché avevo già Nella mia testa Un qualcosa di Poco definito Quella serie Mi ha dato Diciamo Il calcio Giusto Tu hai visto lui Ha detto Voglio essere un figo Come lui Vabbè No C'è gente che si ispira A Walker Texas Ranger E vuole diventare Un karateka Io invece mi sono ispirato A Patrick Jane Di The Mentalist E Allora Tu mi chiedi Se The Mentalist È una serie Dove si parla Realmente di mentalismo Ah intanto Nella serie C'è una trama C'è lui Che dà la caccia A questo John Rosso Come penso tu sappia Come sapranno tanti Quindi collabora sempre Con la polizia Collabora con la polizia Con il CBI Che è un ente Diciamo inventato Comunque per la serie E come lo fa E come lo fa? E come lo fa? No dico Chiedo No Te lo devo dire io Lo fa Usando Le tecniche Di un vero mentalista Considera che questa serie Si ispira tanto Al lavoro di Darren Brown Ah Darren Brown Darren Brown Che ora ti dirò Insomma Parleremo anche di lui Si ispira al suo lavoro Ovvero Patrick Jane Nella serie Cosa fa? Interroga E Analizza I sospettati Cercando di leggere Il loro linguaggio Del corpo Cerca di trarli in trappola Li manipola Li suggestiona A volte Li ipnotizza Lui Diciamo che Un po' Infrange Comunque le regole Perché lo fa Pur di arrivare Alla verità Infatti Permettetemi Di dire Che Nella prima puntata Lui dice Una frase Bellissima E' una citazione Che io Mi porto dentro E dice La verità È mia C'è Parli che stiamo parlando Ma proprio Cioè così E' una frase Bellissima Perché se uno ci riflette Un attimo Lui ti sta dicendo Che qualunque cosa Tu faccia Lui Ci arriva Ci deve arrivare Non è detto Che in realtà Ci riesca Però lui ti fa credere Che ci riesca Il mentalista E' anche questo Ti porta ad un Punto tale Che anche nel momento In cui in realtà Lui Non riesce A leggerti Nel pensiero Tu credi Che lo stia facendo E finisci Per tradirti Sai come sono Questi drogati Non tirano la cosa Il Sam si infilzano Da dietro E questi drogati Sono così Drogati Questa è la verità Questa è la verità Quindi è questo qui È una grande cosa Sì vabbè Perché poi lui Si vede nella serie Che sbaglia Lui è molto umano E si fa anche tradire Lui stesso Dalle emozioni Però il suo obiettivo È sempre quello E fa di tutto Per perseguirlo Quindi il mentalista Può sbagliare Assolutamente sì Cioè Rispetto a uno spettacolo Di magia O comunque Di prestidigibilizzazione Qui si può sbagliare Se si sbaglia Che si fa? Succede? Cioè Ti è successo? Hai sbagliato? Assolutamente sì Allora Che cosa succede? Intanto io credo Che anche il prestigiatore Possa sbagliare Giustamente Però la differenza qual è? È il prestigiatore Ha Diciamo Dei Dei numeri Restabiliti Con un risultato Previsto Deve essere quello Deve essere quello Altrimenti io da spettatore Me ne accorgo Esatto Cioè nel momento In cui il prestigiatore Sbaglia È quando si svela Il trucco Ok Per questo Un personaggio Come David Copperfield È incredibile Perché Perché non sbaglia Nulla E anche se sta volando Sembra che voli davvero Anche se la gente Sa in fondo Che non è così Però in quel momento Ci sta credendo Io l'ho visto separarsi In due Esatto Quindi insomma Diciamo che E camminare Su altri livelli Il mentalista Fa degli esperimenti Perché non è detto Che tutto vada Sempre come si vuole Cioè se io per esempio Parlo con te Caro Matteo Sì E provo a leggerti Nel pensiero Un oggetto Una parola Che stai pensando Non è detto Che io ci riesca Potrei riuscirci Al cento per cento Potrei individuare Solo qualche E lettera E quindi arrivarci Per logica Potrei Non arrivarci Proprio Dipende anche L'altra persona Quanto è chiusa Cioè quanto è Estroversa Introversa Quanto è predisposta A fare questa cosa Perché comunque Dipende anche molto Dallo spettatore Ok Parlavi poco Anzi hai tirato fuori Uno di quelli Che io Ne conosco pochi Soprattutto quelli italiani Non ne conosco Non ho visto nulla Però per quanto riguarda Derren Brown Ho visto diverse cose Ho visto delle cose Pazzesche Abbiate Fatevi un favore Come direbbero a Cinefax.it Grande podcast che seguo Andate a guardare Almeno uno spettacolo Teatrale Anche su Netflix Ce ne sono alcuni Di Derren Brown Derren Brown Massimo esperto Di mentalismo Almeno quello più famoso Penso che sia Io credo che Derren Brown Sia il più grande Attualmente Al mondo Ok E infatti Ci sono tipo Un sacco di attori Hollywoodiani Che sono amici Di Derren Brown Che hanno partecipato A sui spettacoli Perché lo amano Quindi diciamo È riconosciuto In tutto il globo Terraqueo E ho visto cose Pazzesche Quindi dico Non so se tu Ti ispiri Totalmente E lui vorresti diventare lui Non ce la farai mai Presumo Perché io ho visto Far le robe Tipo 10 Chiamare al telefono E ti ipnotizzo Dal telefono Per di Le ose No E non è possibile Però penso che Tu lo conosca Approfonditamente Lo conosco Approfonditamente Tra l'altro L'ho conosciuto Tramite Dementalist Tramite Perché lì ho detto Sto Dementalist Ma da dove esce fuori Certo È uscito fuori Il nome di Derren Brown E lì ho cominciato A vedere I suoi video I suoi spettacoli A manetta Tutti in inglese Tra l'altro Mi dispiace dirvi Che su Youtube Trovate tutto Ma difficilmente Sottotitolato in italiano Quindi Dovrete fare un po' Uno sforzo Su Netflix Su Netflix L'hanno anche doppiato Su Netflix C'è uno speciale Credo Ce ne sono un paio Forse anche di più Insomma Allora Derren Brown È in attività Tra l'altro Da una ventina d'anni Però Ha iniziato come me Ha iniziato Ha iniziato A 21 anni Nei pub Vicino a casa sua E io ho iniziato Esattamente Nello stesso modo Quindi lo prendo Con un buon auspicio Un auspicio Certo Derren Brown È davvero il più grande Al momento Nel mondo Perché Perché lui Diciamo Ha sdoganato La figura Del mentalista Come Diciamo che Si dice Mentalista scientifico Cioè Quello che si basa Su Cioè Che dichiara Apertamente Quali sono Le tecniche Che usa Ah Vedi Questa è una cosa Una cosa Mentre prima di lui Era un mondo Molto più Chiuso Più misterioso Più legato Appunto All'esoterico Arriva lui Vent'anni fa circa E dice No Io Voglio Cambiare E dire Che uso Come dicevo prima La letto Il linguaggio del corpo E così via E questa È stata La sua fortuna Lui è inglese È nato Vive a Londra Mi pare E lui fa Spettacoli Oggi Fa spettacoli In tutta l'Inghilterra In America Cioè È famoso Fa speciali In tv Fa dei programmi Incredibili Con un sacco di soldi Da dietro Tra l'altro Penso che ci siamo Produttori Contro produttori Io vi consiglio Veramente Di andarlo a vedere Anche perché Rispondo alla tua domanda Io mi ispiro a lui Non lo imito Perché un'altra cosa Importante che mi hanno insegnato È non imitate Gli altri Perché finite Per diventare ridicoli Sì Il mentalista Ecco vi do una chicca Deve portare Sul palco Se stesso Anzi Meglio Deve portare sul palco La migliore versione Di se stesso Così Quindi tu ci vai Con la mia faccia Praticamente Sì Ti piacerebbe Mi piacerebbe No Che vuol dire Che io Sul palco Parlo Un po' come Sto facendo adesso Con te Mi comporto Un po' come Faccio sempre Quindi la questione Attoriale Diciamo Ti accompagna Ma fino a un certo punto Diciamo che Mi accompagna Il saper stare Su un palco Scusami È il Saper parlare In pubblico Però non sto recitando Ecco Il prestigiatore Ecco Di nuovo la differenza In qualche modo Recita Un ruolo Perché Fa delle cose Che non sono Possibili Spesso hanno Un personaggio Che devono Interpretare Mentre il mentalista È consigliabile Che non lo faccia Che non abbia nomi Da arte strani Il grande Danton Esatto Mi era avuto in mente Tempo fa Una locandina strana Che avevo visto Vabbè Ma lasciamo perdere Che cosa ci avevano messo I fulmini Non mi ricordo Niente Quindi il mentalista Deve essere Umano Non deve essere Sovranaturale Quindi niente cappelli Delle persone Le porto sul palco Le persone Giocano E si divertono Con me O meglio Si emozionano Con me Ok Fico Quindi tu rimani Te stesso Non interpreti Ma la gente sa Che cosa fai Però dopo un po' Solo dimentica Perché lo fai In maniera naturale Cioè è quello Il punto O no Si Diciamo che La cosa bella È che poi Alle persone Rimane Fondamentalmente Un bel ricordo Di quello Che ha visto Finora Io non ho fatto Molti spettacoli Diciamo che Ho iniziato in teatro Praticamente L'anno scorso E La gente Che cosa fa Alla fine Viene da te Ti dice Che è stato incredibile È una cosa Che non aveva mai visto Si è emozionata La storia Che si racconta È avvincente E se ne va a casa In qualche modo Con una nuova esperienza Ecco Uno spettacolo Di mentalismo Penso Si possa definire Una Un'esperienza Unica E ti lascia tante domande Ti lascia un sacco Di domande Come avrà fatto Dalle più tipiche Ma come ha fatto Ma com'è possibile È tutto truccato Tu sono tutti attori Tra il pubblico Vabbè Di complici Cosa che Tra virgolette Anzi Tra parentesi Non è vero Cioè io Io personalmente Non uso complici Negli spettacoli E c'è chi lo fa C'è chi lo fa Almeno penso So che C'è chi lo fa Io non ne uso E poi se mi volete credere bene Altrimenti Non avrebbe senso Non avrebbe molto senso E quindi è quello L'importante Il ricordo che rimane E le domande Che si fanno A volte qualcuno Va anche oltre Cioè Il senso Di quello che ha visto Perché Uno spettacolo Di mentalismo Che possa Chiamarsi tale Cerca di lasciarti Ovviamente Senza Troppe Pretese Cerca di lasciarti Un messaggio Ok Un messaggio Di In qualche modo Un messaggio positivo E quindi Diventa Effettivamente Un'esperienza di vita Cioè In quell'ora E un quarto Molti mi hanno detto Mi hai stravolto il cervello Perché Ho visto delle cose Incredibili Mi hai fatto riflettere Su altre cose Quindi Se ne vanno contenti Quindi tu Praticamente Quando ti esibisci Rispetto ovviamente A che cosa stai facendo A qual è l'esperimento A cui fai prendere parte Fai un po' Uno scan Un body scan A chi ti sta davanti E praticamente Tra le tante cose Per quello che ho capito Leggi il linguaggio del corpo Leggi la postura Leggi Cioè Un po' Come si sente In quel momento Cerchi di instaurare La fiducia Con questa persona E poi Diciamo Ti attivi E quello che fai In pochi secondi Sì allora Ti spiego Come funziona Allora Vogliamo sapere Nel momento in cui Ipotizziamo Di essere sul palco Nel momento in cui Una Persona Dal pubblico Sale Io Devo Cercare Di instaurare Fiducia Un rapporto Di fiducia Con quella persona Nell'istante In cui Stringo la mano Alla stessa persona Già la persona Emozionata Che salita sul palco Già è una cosa E infatti Infatti Paradossalmente Uno spettacolo Di mentalismo È più facile In teatro Piuttosto che In una stanza Perché lì Si crea L'atmosfera giusta C'è l'emozione Di salire sul palco Di fare le cose Con Quello che sta là Con lei È bravo Con la gente Che guarda Quindi intanto C'è l'emozione Quindi bisogna Far sentire a proprio agio Il pubblico Certo Quindi fin dall'inizio Io di solito Inizio i miei spettacoli Scherzando un po' Con il pubblico Prendendoli Bonariamente In giro Cioè Rido con loro E non rido mai Di loro Questo è molto Molto importante Perché altrimenti Poi la gente Lo capisce E invece di Emozionarsi Si chiude Esatto Poi diventa Molto complicato Quindi Si deve Così Instaurare In uno schiocco Di dita Il rapporto Di fiducia Ok Dopodiché Avviene Che cosa Che con le parole Ma soprattutto Con le non parole Con le non parole Con le non parole Adesso faremo Un minuto di non parole Qui Esatto Così vediamo Cosa che succede Si addormentano Sì è una roba Con Con i Quindi con I gesti Con la gestualità Portare La persona Dal proprio lato Cioè dalla propria parte Meglio Dalla nostra parte Come Come funziona Nel senso che Siccome poi molti Soprattutto gli uomini Vedono poi questi esperimenti Come una sfida Devi far capire loro Che non è una sfida Ma è una collaborazione Ok Quindi al momento in cui Questo tizio O la tizia Sale sul palco E tu stringi la mano Già lì Devi Ecco Anche stringerla In maniera tale Da farla sentire Al sicuro Ma quante cose ci sono qua Tra parentesi Andate a guardare I mind tips E capirete meglio Cosa sono i mind tips Due parole I mind tips Sono delle piccole pillole Fatte Girate Per instagram Dove Svelo Qualche piccolo Segreto Diciamo Do delle chicchie Così in un minuto Quindi possono essere Interessanti Come si chiama Il tuo profilo Paolo Basta che cercate Su instagram O su facebook E trovate tutto Quindi c'è anche Stringere la mano Anche una sua importanza Tutto Una sua importanza Sì Ha tutto Una sua importanza Dallo stringere la mano Il tono di voce Sintonizzarsi Sullo stesso Tono di voce Addirittura Se uno ci riesce È importante Anche Riuscire A respirare In sincrono Con l'altra persona Dico Qui andiamo A livelli Che in fase Di spettacolo Anche un po' difficile Però Diciamo che A proposito Di mind tips Quello che sto dicendo Può essere utile Ai nostri ascoltatori Durante La vita quotidiana Cioè Vi servono Queste tecniche Questi consigli Qualora Vogliate ascoltarli Per migliorare La comunicazione Con gli altri Perché il mentalista È anche questo È anche un po' Un consulente Come dire Un consulente Della comunicazione Se vogliamo Quindi stai dicendo Tu Stai sul palco Si stringe la mano Si entra subito Quasi In fiducia Con la persona Se la persona Riesce ad avere fiducia Nel mentalista Allora Il 90% Del lavoro È fatto Forse Guarda Forse l'80% Andiamoci così Io che lavoro sul palco Mi sono accorto Dopo un po' di anni Che Nel momento in cui Salgono sul palco Le persone fanno Tutto quello Che gli chiedi Io ho fatto fare A persone anziane Io ho fatto cantare I pokemon Ai bambini Io ho fatto recitare Le cose La qualsiasi Quando la gente Sul palco È pronta A fare Quello che gli viene detto Questo è importante Per te Assolutamente sì Perché poi sul palco Se però Ripeto Per esempio tu Da presentatore O io da mentalista Riusciamo intanto A instaurare Questo famoso Rapporto di fiducia In quel momento Poi la gente È contenta Di salire sul palco E si crea Un'atmosfera Incredibile Meravigliosa Che tu conosci Anche meglio di me E la gente È disposta A fare Tante cose Perché sa Che le fa Per divertirsi Quello è l'importante Quindi senza la paura Senza Sì 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 Io quando Mi capita Per determinati Esperimenti Di chiamare Più di una persona Alla volta È lì ancora meglio Perché poi si crea Questo spirito Di gruppo In cui tutti Collaborano Si ride Si scherza Insomma Si crea Una bellissima Atmosfera E sono io Il primo a divertirmi Vino toscano Cinghiale toscano Stornelli toscani Tutta la notte Ci si diverte Esatto Cioè diventa poi Una festa Sì sì Diventa In un certo senso Sì Diventa una festa Però poi C'è Ci può essere anche Il momento Un po' più serio Anche in quel momento È importante Mantenere sempre Lo stesso Rapporto di fiducia E lì poi Ad esempio Quando faccio Esperimenti Di ipnosi Mmm Però ne possiamo Parla Possiamo parlare Anche di ipnosi Fra poco Sì La persona Importante Che la persona Abbia totale fiducia In te Se non c'è quella Non puoi fare niente Perfetto Se ci sei arrivato da solo Io te lo volevo chiedere Che è una cosa Che ancora Pensi sia casuale Che ci sei arrivato da solo Ragazzi Mi sta Capite Il mentalista Mi legge Allora C'ho l'ansia Che cos'è L'ipnosi Dal punto di vista scientifico E quanto Tu la utilizzi In questo caso Come funziona Insomma Raccontaci un po' Perché in tanti Sono spaventati Dall'ipnosi Allora Intanto tu Hai usato Un termine interessante Cioè Mi hai detto Massimo esperto L'ipnosi Da un punto di vista Scientifico Sì Per me È quello Però Che cosa succede Che l'ipnosi Purtroppo Non viene vista Come Una scienza Ah Ok Cioè Se voi andate Alla ricerca Su google E Cercate Ipnosi O in inglese Insomma Quello che volete Vi spuntano Testi Manuali E anche Medici O meglio Psicologi Psicoterapeuti Psicoterapeuti Quello che volete Che praticano L'ipnosi Terapeutica Ok Perché comunque Vi posso garantire Che esiste Eh sì Lo sappiamo Cioè La utilizzava Freud Mica Esatto Dico Non parliamo Di Non è che stiamo parlando Del mago Telma Esatto Non parliamo L'oziotano Quando lo dico io No Non è quello Allora L'ipnosi È Molto più Reale Concreta Di quello Che si pensi L'ipnosi Non è altro Che Non la voglio Sminuire Però Voglio farla Capire È Una fortissima Suggestione Ah ragazzi Ah intanto Per favore Ci tengo Dimenticatevi Quelli che Non faccio nomi Perché è meglio Di no Dimenticatevi Quelli che Ah Adesso tu Sei una gallina Adesso tu Senti Ti senti Così Ti senti Le mani Intrecciate Cioè Pivetta Lei adesso È un cavallo Esatto Alla parola Catalessi Alla parola Catalessi Dico vabbè Loro se lo possono Permettere Certo Quindi Cos'è l'ipnosi Quindi È una forte Suggestione Che avviene Attraverso Le parole I gesti Delle immagini Che si rievocano Nella mente Della Della persona Si inizia Intanto Dal far Rilassare La persona Dopodiché Attraverso appunto Quello che ho finito Di dire Si porta In uno stato Di trans Io Da mentalista E da Fondamentalmente Fomer Showman Per lo spettacolo Per lo spettacolo Io mi fermo A uno stato Di ipnosi Da intrattenimento Cioè La persona È in uno stato Di trans Però è cosciente Cioè Mi sente E comunque Fa quello che dico io Nell'ottanta per cento Dei casi Senza rendersene conto? Senza rendersene Pienamente conto Dipende Da che grado Di Trans Si è Raggiunto Che detto così Sembra un'altra cosa No no Vabbè Che cosa succede? Che Intanto È importante pure Sapere Che non è vero Assolutamente Non è Vero Che l'ipnosi Dipenda Dal vostro Quoziente intellettivo Ma questa non la sapevo È nuova Perché Mi è nuova Molti Molti Presunti Mentalisti Ma nemmeno Tra virgolette Nemmeno troppo presunti Perché in realtà Sono degli imbecilli Che cosa fanno? Per far sì che tutto vada secondo i loro piani Dicono al pubblico Che soltanto le persone più intelligenti Sono ipnotizzabili Di conseguenza Tu che stai sul palco Che fa? Non ti fai ipnotizzare? Ti prendono per cartino Quindi fingono Ah Se è il caso fingono E la gente mai non se ne rende conto Cioè fingono Attenzione Cioè ti viene in automatico Di fare proprio quello che ti dice Sì fai finta Che stia succedendo Anche se tu in realtà Ti senti tranquillissimo Perché altrimenti Hai paura Di fare la figura Di quello stupido Perché il tizio ha detto Che sei intelligente Però scusami Alla fine Se si usa questo Questo mezzuccio Alla fine Il pubblico magari potrebbe anche credere Che Che tu sia stato ipnotizzato Ma tu lo sai Che non ha funzionato E certo Quindi che esperienza fai? Cioè scendi E poi Questi Presunti tali Questi presunti Poi non è che vanno avanti Cioè è chiaro Certo Quindi L'ipnosi reale È anche un bel momento Cioè se è fatta bene La persona Intanto Prova una grande Sensazione di Di rilassamento Quindi Fa bene in qualche modo Anche al corpo Perché si rilassa Tutto C'è chi si addormenta Totalmente E alla fine Quando li riporti Diciamo Nel mondo reale In qualche modo Ti ringraziano Perché si sono emozionati Stanno Si sono sentiti bene Nonostante Magari In un esperimento Io abbia impedito A loro Di muoversi Totalmente Non provano Fastidio Quindi diciamo Questa paura Imane Dice no No Io non mi lascio Prontizzare No Perché poi mi legge la mente Mi disturba il sonno No infatti Non sono cose Diciamo che io capisco Che la gente abbia timore Perché si sono create Così tante leggende Metropolitane Intorno all'ipnosi Che la gente Restia Vede Certi personaggi in tv Sempre senza fare nomi Dice ma che è sta buffonata Ma che è sta carà Sacrafonata Esatto No vi posso garantire Credetemi Cuore Col cuore in mano Ve lo dico Che l'ipnosi È un'esperienza In realtà Molto bella E molto positiva Chiunque l'abbia provata Vi garantisco Che vi dirà La stessa cosa E poi molti Siccome lo capiscono Che effettivamente È così Mi chiedono Mi ipnotizzi Non è che funziona così Arrivo Schiocco le dita Tapp Cosa ci vuole Per partire l'ipnosi E stavo arrivando lì Anche perché Non sempre è possibile farlo Se non ci sono le condizioni Le condizioni quali sono Semplicemente Se la persona Che provate Che provo Ad ipnotizzare Non è Una persona Predisposta Cioè non è molto aperta All'esperienza E ha paura Non ci riuscirò mai Infatti mi è capitato Certo Mi è capitato Di provarci Anche per fare pratica E la persona Non rispondeva Ai miei input Così come D'altro canto C'è stato Chi si è addormentato Anche in mezzo a una strada C'è un video Me lo ricordo bene Esatto C'è un video Appunto sulla pagina facebook Qualora vogliate andarci La pagina di Paolo Timirello Esatto Grazie per lo slogan Nella pagina Trovate questo video Anche sul canale youtube Capito C'è tutto C'è tutto Trovate questo video Dove Questa ragazza Si addormenta In mezzo Ad una strada Con macchine Che passano In piedi Con gente Che passa E lei poi Nel video Si vede E lei dice Che si è addormentata E è uscita fuori Da questo mondo Per qualche minuto Addirittura Si vede nel video Che io me ne vado E la lascio lì Che poi In realtà Passano Cinque minuti Abbondanti Nel video Insomma Poi si è tagliata Un po' Questa parte Però è quello Quindi intanto Ci vuole la predisposizione Della persona Dopodiché Ci vuole anche Riuscire Cioè Saper Sapersi muovere Saperlo fare Perché non è che tutti Arriviamo Non è facile Quindi fondamentale Immagino Essere rilassati La tua voce Immagino sia da seguire Bisogna lasciarsi andare Fidarsi della persona Che ti stai predisando Si si Te lo dicevo prima Il rapporto di fiducia Poi nell'ipnosi È la cosa fondamentale Assolutamente fondamentale Quindi tu Quando Adesso Giusto un paio di domande così Perché Fra poco chiudiamo Tu Quando costruisci uno spettacolo Di mentalismo Allora a questo punto Come ti muovi? Cioè Hai tanti esperimenti Perché Qualcuno viene messo In un punto Cioè Che esperimenti fai E poi Ci metti anche l'ipnosi Quindi È una cosa che comunque Allora È forte Ci sta Sì Diciamo che poi Quello diventa Il momento Più Più bello Più alto Nel mentalismo Non si usa oggetti Non si usa nulla Esatto Perché intanto Nel mentalismo E vengo Diciamo Comincio a risponderti Nel mentalismo Negli esperimenti Non si usano Strani oggetti I famosi Gimmick O Gimmick Come Come dir si voglia Ma spesso Si usano oggetti Molto Molto comuni Come carta e penna Si usano Delle scatole Si usano Pennarelli A volte Palloncini Oggetti di uso comune Sì Di uso comune Non ci sono oggetti Non vedrete mai Me sul palco Con le ali C'è un proietto Il fuoco dalle mani Diciamo Non è Tenderei a non fare Tenderebbe a non fare Allora Intanto Ti rivelo Vi Rivelo un segreto Nello spettacolo Di mentalismo Non si inizia mai Dall'esperimento Ma si inizia Dal Dal raccontare Una storia Cioè La prima domanda Che io mi pongo È Quale storia Voglio raccontare Al mio pubblico Una volta Decisa E scritta La storia Lì Si Vanno A capire Si vanno A capire Quali sono Gli esperimenti E Permettono Di procedere Con la storia Quindi la storia È fondamentale La storia è fondamentale È fondamentale Perché altrimenti Non dalle emozioni Di cui parlavo prima Cioè se io faccio Allora Diamoci così Se io salgo sul palco E faccio una serie Di esperimenti X Ok Previsione Previsione Suggestione Hypnosi Quello che volete Risulta uno spettacolo Piacevole Ma l'unica cosa Che passa È che Io Voglio far vedere Quanto sono bravo Quanto sono figo Perché riesco a fare Determinate cose Sono figo Sono bello Sono Paolo Tini Vabbè Vabbè Perché Ci sta Quindi La storia È fondamentale Nel momento In cui Si vogliono Trasmettere Ripeto Delle emozioni Lì poi La storia Diciamo Che viene Riadattata In qualche Modo Per Legare Insieme Gli esperimenti Ok Quindi hanno Un senso Questi esperimenti Per quanto riguarda La storia Che tu racconti Si Diciamo che Fanno immergere Il pubblico In quella storia Che tu stai raccontando In qualche modo Gliela fai vivere In prima persona Ad esempio Di recente Al Palermo Comic Con Si Ho portato Lo spettacolo Hero Dove si parla In qualche modo Della figura Dell'eroe E lì Il pubblico Una parte Del pubblico Ha Vissuto In prima persona La storia Che stavo Raccontando Penso che Sia l'esempio Più bello Più calzante Perché effettivamente Mentre io Cioè Quello che facevano Era quello Che io stavo Raccontando In qualche modo Infatti Nei loro volti Appunto Si poteva leggere Il panico L'ansia L'emozione Di fare Quella cosa Non vi dirò nulla Perché spero Lo vediate Lo spettacolo Prima o poi Però È quello Alla fine Poi C'è appunto Ripeto Per l'ennesima volta L'emozione Grande Di aver fatto E vissuto Quella storia Quindi si parte Della storia Poi si decidono Gli esperimenti Chiaramente poi Le cose si plasmano A vicenda Cioè poi Se c'è un esperimento Che Anche per ragioni Di spettacolo Sembra Non intrattenere Molto Non funzionare Molto Agli occhi Del pubblico Si può anche Cambiare Si può sistemare Ma la base Sarà sempre La storia Da raccontare Ok Paolo Ti è successo Di sbagliare Glamorosamente O ti è successo Di essere sorpreso Di aver fatto Anche una cosa Che non ti aspettava Allora Clamorosamente Doppia domanda Esatto Allora Clamorosamente Mi pare di no Ok Cioè O meglio L'errore Gli errori Gli ho fatti Anche sul palco Però lì è importante Intanto Non farsi prendere Al panico Perché altrimenti È finita È importante Far capire Al pubblico Fin da subito Che è possibile Fare errori E nel momento In cui lo fai La cosa molto Molto bella È che Diventi ancora Più credibile Perché la gente Si rende conto Che tutto quello Che sta succedendo Allora è vero E non è programmato Perché se tu hai sbagliato Vuol dire che È reale Certo Se tu stai facendo La lettura Del linguaggio Del corpo E pensi Che quella persona In quel momento Stia mentendo Perché ha fatto Un movimento Con il volto Con gli occhi Con le braccia Che tu Leggi come Esatto Una menzogna In realtà Magari stava Scacciando una mosca E tu hai sbagliato Sì Diciamo di sì Diciamo Può succedere Quindi questo In effetti Rende realistico Quello che hai fatto Sì perché poi Per venire Alla tua parola Quando si legge Il linguaggio Del corpo Bisogna fare attenzione E qui mi riallaccio Sempre ai famosi Mind tips Al contesto Esempio banale Se una persona In braccia concerte Viene visto Spesso Come segno Di chiusura Di protezione Ma se Sono In una stanza In un luogo Freddo Mi può anche Venire in mente Chiaramente Che quella persona È messa così Perché sente freddo Cioè L'esempio È l'esempio Che faccio sempre Perché è quello Più semplice Però funziona così Anche sul palco Bisogna fare attenzione A Che la persona Può essere rigida Ma perché è emozionata Non per forza Perché si sta nascondendo Non so se Rendo l'idea Certo certo Quindi L'errore Dà Autenticità Ecco Dà autenticità E si può Sempre rimediare Cioè Il bello del mentalismo È che se non arrivi Immediatamente Al risultato Certo a meno che Non sia un imbecile E te la porti Per le lunghe Puoi sempre rimediare Mi è successo Recentemente Con Connection Spettacolo Ho fatto Un evento privato Dove L'esperimento finale Che era quello più Interessante Tra l'altro Non subito È riuscito Però poi Cambiando L'ordine Dei fattori In quel caso Il prodotto è cambiato Perché poi è andato A buon fine Ah ok Quindi Non vi dico nulla No 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 Non spoileriamo Non spoileriamo Invece qualcosa Che ti ha sorpreso Perché ti è riuscito Incredibilmente bene Qualcosa che Mi è Mi è riuscito Incredibilmente bene È stato Il 23 maggio Al teatro Sant'Eugenio Con Caos Lo spettacolo Che porto a teatro Per adesso Quando ho ipnotizzato Una signora Nella parte finale Dello spettacolo Non mi aspettavo Che riuscisse Così bene Cioè Rendetevi conto Quindi Cioè La sorpresa Era Forse più la mia Che quella del pubblico E non vi nascondo Rivelo un piccolo Sagreto Che mi sono anche un po' preoccupato Che è successo? Mi sono un po' preoccupato Perché la signora Sembrava quasi svenuta Una signora che È svenuta Esatto Non è svenuta chiaramente Era solo molto rilassata E alla fine Un momento idilliaco Per me soprattutto Quando poi L'ho riportata Ce l'ho fatta svegliare Per capire Se stava bene Chiaramente Ho chiesto Come si sente E lei mi ha risposto Emozionata Per me quello È stato un momento Bellissimo Perché vuol dire Che ero riuscito A fare esattamente Quello che volevo Questa è una bella cosa Un applauso Un applauso Reggiseni Che hanno tirato Chiaramente sul palco Vabbè tipico Diciamo Beh in realtà sì Però non diciamo Non diciamo Non diciamo Non diciamo Quindi questo spettacolo Vabbè insomma Chaos È uno spettacolo Che rifarai Adesso Lo rifaccio Il 27 di settembre Quindi venerdì prossimo Una settimana Che ansia che ci abbiamo No infatti Sono morto dentro No scherzo Un po' d'ansia Ce l'ho Teatro Sante Eugenio A Palermo Al Teatro Sante Eugenio Reprica di Chaos In meno di un anno Quindi già È un grande obiettivo Raggiunto Sarà uno spettacolo Molto interessante Una storia Avvincente Accattivante Detective story Dico bene In qualche modo Sì Perché il mentalista Può anche essere Un po' detective Se non l'avete vista Andate a vedere The Mentalist E lo capirete Sì Tra parentesi C'è anche Sherlock Che ogni tanto Usa Cioè Anche Sherlock Holmes Nei libri Lascia perdere la serie tv Ma nei libri Si dice che Sherlock Holmes Viene scritto Non mi ricordo in quali Che usa tecniche Di mentalismo Cioè di lettura La lingua del corpo Di manipolazione È assento È un detective Certo Quindi parlando di caos Si parla Della teoria Del caos Allora dammi qualche accenno Esatto Il famoso Effetto farfalla C'è pure il film The Butterfly Effect Quindi chi l'ha visto Magari già capisce Di Edward Lawrence No il film L'effetto farfalla La teoria del caos Cosa ci dice Che Siamo tutti Connessi In un sistema Di causa Effetto In cui Una piccola Variabile Condiziona Esponenzialmente Tutte le altre Questo concetto Mi è espresso Molto bene Anche nel film Lo strano caso Di Benjamin Button C'è una parte In cui lei La protagonista Femminile Ha un incidente E c'è lui Che dice A ritroso Se non fosse successo Questo 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 E questo Lei non avrebbe avuto L'incidente Abbiamo fatto uno spoiler No Spero di no 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 Lo spoiler del film Mi dispiace per chi Non ha visto il film Però è uscito Tipo mille anni fa Quindi La teoria del caos Parla di questo E la storia Che io racconto Sul palco Parla proprio Di questo In una chiave Diversa Chiaramente Da quella detta finora Con tanto di esperimenti E la gente Artecipa attivamente E si rende conto Effettivamente Di come le loro scelte Le scelte del pubblico Portino A un determinato Risultato Diciamo Non posso dire Di più Vi posso solo dire Che è una storia Ambientata a Londra Di più Non vi dico Ok Perché comunque Su internet si vede Dico C'è la pubblicità Si vede Si capisce Che è ambientata a Londra Però non vi dico di più Mi è piaciuta Mi è piaciuta molta Questa chiacchierata Sono veramente contento Tu Hai qualche messaggio Per chi Per esempio Si è sempre appassionato Di Non per forza Di mentalismo Ma Di lettura del Del corpo Di queste cose Cioè consigli Comunque qualcosa Da approfondire Da studiare Qualcosa da vedere Per chi si è appassionato A questo Perché comunque Non sono in pochi Un sacco di amici Che sono rimasti curiosi Dagli spettacoli Che hai fatto E che si interesse Cioè l'interesse c'è Cosa consigli A chi è interessato Se vuole provare Magari Ad avvicinarsi A questa cosa A questa professionalità Che non è facile Insomma Allora Quello che dico È questo Se il vostro Se il vostro interesse È pura curiosità Oppure avete interesse Nel fare Questo lavoro Che poi diventa Anche uno stile Di vita In realtà Perché Se ho qualche altro Minuto Poi ti dirò Altro E se lo fate Solo per la curiosità O solo perché Volete Fare i fighi Lo dico molto apertamente Levateci mano Cioè Non fatelo Perché il mentalista Reale Quello Come mi hanno Come mi ha insegnato Aroldo Con la M maiuscola È quello che emoziona Se invece volete Salire sul palco E fare i fighi Potete fare benissimo altro Per chi invece È davvero interessato Può cominciare A studiare Tutto quello Che ho detto E dopo otto anni Come ho fatto io Potrete cominciare Forse a fare Degli spettacoli Ripeto Ci sono dei corsi online Cioè Ci sono tante cose È possibile farlo Non è semplice Perché dicevi Che è uno stile di vita? Perché Ti ha intrippato Sì Cos'è un Avengers Che c'ha i poteri Finisco Per dire una cosa Sì Una cosa che invece Voglio Un messaggio Che mi piacerebbe dare E poi ti rispondo È che Quello che ho imparato Dal mentalismo È che È giusto Seguire Le proprie passioni In qualche modo I propri sogni Cioè Sembra il discorso Del presidente Vabbè sì Però Quello Non voglio sembrare Presuntuoso Ma quando ho iniziato Chiaramente Quando io dicevo Sai Sto cominciando a studiare Per diventare mentalista Per diventare mentalista Figurati le prese per il culo Certo Gli sguardi Storti I classici Ma che è sta cosa Ma che devi fare Ma che disagio Insomma Però Piano piano Adesso posso dire Di averne fatto Un lavoro E di fare spettacoli E la gente Che mi conosce Che comincia a conoscermi Mi fa sempre delle domande Mi ferma per strada E dice Ah ma tu Ma io voglio Sono curioso Ma tu Mi chiede dei consigli Dei pareri Su Queste tematiche Quindi quello che Mi sento di dare E come Esattamente come faccio Negli spettacoli È più che altro Questo messaggio Cioè Seguite la vostra strada Seguite i consigli Per carità Però Se ci credete In qualcosa Fatelo E perché E anche questo è un po' Lo stile di vita In realtà Perché Perché Allora Diciamo che succede Parecchie volte E poi Salutiamo Succede parecchie volte Che Chi già mi conosce E sa che Studia queste cose Rimane un po' perplesso Sono due Le possibilità O Sono incredibilmente Entusiasti E Mi fanno mille domande E vogliono sapere Sempre di più Si interessano Sono molto curiosi Un po' come abbiamo fatto adesso Mi chiedono Ma perché Tu fai sta cosa Perché Da dove ti Ti nasce Io non ci credo Ma esatto Sono tutte cazzate Però È diciamo Un modo di fare positivo Dall'altro C'è chi ha paura Paura che Ha paura Vi giuro che è così Ha paura Nel parlare E mi dice Io con te Non ci parlo più Perché mi sento messo a nudo Oltre al fatto che Quando ridi Sembri il Joker Questo diciamolo Che c'ha gli occhi da pazzo Questo lo possiamo anche dire Che è vero A parte quello Eh Lasci Dicolo Un'altra parentesi Una parentesi importante Parentesi importante Eh Quello che intendo dire È che O affascina O Diventa Agli occhi e gli altri Qualcosa di Minaccioso Vi posso garantire Che effettivamente È qua Ne ho più nel cuore Di quello che Intendo Quando io Ho a che fare Con delle persone Non posso più Fare a meno Di accorgermi Di determinate cose Per esempio Se qualcuno Sta mentendo Si sente a disagio Oppure è interessato A una persona Contro Il classico ragazzo Che cerca di corteggiare Una ragazza Oppure Sta nascondendo Qualcosa Tu te ne accorgi Nella maggior parte In casi me ne accorgi C'è un potere ad area Capito Lui vede la roba Quindi Ecco Questo qua Ti può aiutare anche Nei tuoi rapporti personali Sì Diciamo che Io ho una ragazza E lei un po' mi odia Perché Non ti può mentire Non riesce a farmi sorprese Non riesce A farmi degli scherzi C'è chi ha provato A farmi una festa sorpresa Per il compleanno E chiaramente Diciamo Me ne sono un po' accorto Che tristezza Però Per quanto sia positivo Perché sono contento Di poter Leggere Tra virgolette Facilmente Le persone Dall'altro Vi assicuro Che è un'arma A doppio taglio E che c'è Un Un Rischio Di Accorgersi Di troppe cose Non voglio sembrare Esacente E presuntuoso Dottor Pivetta Lei è fastidiosissimo Eh Quello che intendo è Che a volte Mi è capitato Di Vedere Comportamenti Tipici Della Anche della sociopatia Di chi potrebbe Di chi è molto aggressivo Di chi potrebbe essere Violento Insomma Diciamo Comportamenti pericolosi In generale Ma Di non poterlo dimostrare Certo Cioè nel momento in cui Io vedo te Facciamo esempio E io mi rendo conto Dal tuo comportamento Dal tuo sguardo Da tutto quello che Leggo Che potenzialmente Puoi essere Una persona pericolosa Tu te ne accorgi prima Però se io non faccio Però Non posso dire Attenzione Lui è pericoloso Perché la gente Tende a non crederci Soprattutto Io posso anche Cambiare il mio comportamento Nel momento in cui Tu Mi dici questo Certo Quindi è un po' Un po' Sei uno stranaccio Vabbè Quello sì Per carità Ma dico È un'arma a doppio taglio Perché anche Nei rapporti interpersonali In un momento No Nel momento in cui L'altra persona Che sia un amico Un parente Per carità Non per forza La ragazza Vuole in qualche modo Tenersi qualcosa Per sé Io me ne accorgo Lo stesso Non si può mentire A quest'uomo Così Detto così Sembra un po' Un'invasione Della sfera personale Forse a volte Può anche capitare Però Lì sta a me Essere Eticamente corretto E Sapere Quando Stare zitto Oppure chiedere Certo Oppure dire Guarda Ho capito Tanto vale che parli E ti sfoghi E ti liberi Diciamo che succede questo Che poi è un po' Quello che noi facciamo Con i nostri cari Cioè Ce ne accorgiamo Se la fidanzata Ha qualcosa che non va Non è che c'è bisogno Che ce lo dica Lo leggiamo nel suo linguaggio Bravissimo Pensate alla vostra ragazza O al vostro ragazzo A quando Vi rendete conto Che sta mentendo O che sta male C'è qualcosa Che non vuole dirvi Ecco Il mentalista Fa questo Però applicato a tutti E non sempre È bellissimo È come tutti i poteri Diciamo Hanno delle responsabilità Esatto Mi diceva lo zio Tra l'altro Per riallacciarmi In The Mentalist Succede proprio questo Eh Dobbiamo andarci a vedere No lo dovete vedere Dobbiamo andarci a vedere In The Mentalist Ragazzi In serie Tra l'altro è uscita Un sacco di tempo fa Quindi La recuperata Facciamoci un favore Va bene Paolo Ti ringrazio Abbiamo parlato Un bel po' di tempo Sono Sei contento Di esserti sfogato Adesso che sei Un uomo meno triste Adesso ci ho raccontato tutto Quindi ci rivedremo Siamo noi a teatro Il 27 settembre Sì Vi do appuntamento Nuovamente Il 27 settembre Alle 21 e 15 Anche 21 se volete fare con più comodo Ok Le prevendite sono già disponibili Chiaramente Al costo di 8 euro Perfetto Quindi non è nemmeno Quindi a chi sta intorno Di Palermo Comunque siciliano Palermo è provincia Un viaggettino Un viaggettino Ci potete raggiungere Questo è molto interessante Troverete anche me Ci sono anch'io Esatto Perché alla fine Questo bell'imbusto È il regista Per contattarmi Se avete curiosità Domande Eccetera eccetera Perfetto Paolo Perfetto E allora Ti ringrazio ancora Di essere stato con me Qui su Just Talk Il mio podcast Della storia umana Non ne vero mai Che bello Sono emozionato Posso dire che sono emozionato Sono molto emozionato Allora salutiamo I nostri amici ascoltatori Spero che non vi siate annoiati Anzi Se avete domande Scrivete nei commenti Scrivete a me A Paolo A chi volete Siamo pronti Poi facciamo un'altra puntata Per rispondere Sarebbe molto bello Sarebbe davvero molto bello Grazie ancora Ci sentiamo Alla prossima puntata Di Just Talk Con Matteo Volpe Ciao ragazzi Ciao Indossa le tue cuffie Schiaccia a play Che t'annoyeresti Non ci scommetterei Inizio il podcast Tu ascolta il relax Controllo qualità Come fossimo dei nastri Qui si parla del tutto E di più Tutta gratis Non è mica per il tv Serie tv Cinema Videogames Nambi W Ogni puntata Sempre nuovi Aspiti Con Matteo Chiamalo Mister Nice Guy Se ci ascolti Non te ne pentirai Sintonizzati Anche se sei in viaggio Perché da noi si parla Anche di doppiaggio Con The Corner Se poi c'è Marvel Ci trovi in tutti i social Spacchiamo il web E non manca la rubrica più famosa Insieme al Rappi Radiofica Velosa Questo è già stork Questo è già stork Questo è già stork